Buonasera a tutti, sono André Siciliani, ho 28 anni, sono di Roma, sono uno dei referenti nazionali del Comitato Organico Aggiuntivo ATA che si batte per il ripristino dell'organico aggiuntivo nelle scuole, di quell'organico aggiuntivo che è stato soppresso dal governo Draghi in virtù del fatto che l'emergenza pandemica sia terminata. Ebbene, in realtà l'organico aggiuntivo, il personale in più nelle scuole serve come come il pane perché i colleghi presenti nelle scuole sono ritornati al 2019, sono ritornati a una scuola dove i colleghi di ruolo o chi ci lavora non riescono a garantire né la sufficiente sorveglianza né la pulizia degli spazi scolastici. E questa è una pesante contraddizione, se ci pensate bene, perché la scuola necessita di personale e noi che per due anni abbiamo lavorato nelle scuole, attualmente ci ritroviamo a stare in una condizione senza lavoro e di pesante disoccupazione dove ci sono dei colleghi che stanno andando a prendere persino i pacchi alla Caritas per poter far mangiare i propri figli. Io, come tutti quanti noi, facciamo appello alla politica, facciamo appello a questa maggioranza di rispettare le promesse elettorali che sono state fatte alle elezioni politiche del settembre scorso perché noi confidiamo che la sensibilità mostrata da Ella Bucalo, dall'attuale sottosegretaria Paola Frassinetti, dal deputato Rossano Sasso e dal senatore Antonio Iannone, confidiamo che questa sensibilità che loro più volte hanno mostrato sulla tematica dell'organico aggiuntivo e che lo ritenevano prioritario possa trovare reale applicazione. Quindi faccio un appello alla maggioranza, quella di dare una risposta a migliaia e migliaia di persone che hanno servito lo Stato a testa alta, a quelle migliaia e migliaia di persone che hanno consentito alle scuole di poter essere aperte in uno dei periodi più difficili della storia mondiale, a quelle migliaia e migliaia di persone che nonostante i ritardi dei pagamenti dello stipendio sono sempre venuti a scuola e hanno garantito la loro presenza. di dare una risposta a quelle migliaia e migliaia di persone che chiedono solo una cosa, il ritorno a scuola, il riavere il proprio lavoro, che coincide proprio con l'esigenza di personale nelle scuole. Questo è il mio appello di André Siciliani. Ciao a tutti. Ciao a tutti.